Città Accessibile Il primo anno di Città Accessibile è andato abbastanza bene, abbiamo avuto molte attività, siamo soddisfatti per Cugibanimation, che è un tipo di animazione per le persone disabili, siete festeggiati o siete invitati. Quando sono invitati, chi organizza l'evento, se vuole invitare le persone disabili, noi siamo a disposizione per la serata, in modo da rendere inclusiva tutta la serata. Ovviamente il servizio, diciamo, c'è un pacchetto, c'è bisogno di decidere con noi dell'associazione, in modo da poter rendere la serata totalmente inclusiva, senza alcun tipo di barriere, dove si possono fare pure balli, musica, ci sarà anche una sorta di teatro. Un'iniziativa bellissima, quella di Carmelo, farò di tutto per aiutarlo, consigliarlo in questo cammino dell'Inclusive Animation. Io mi occupo della comunicazione e spero insieme a lui di fare grandi salti in avanti per quanto riguarda la cultura, che ancora oggi è un po' indietro. Quindi faremo tutto il possibile insieme a Carmelo e tutto lo staff. Grazie a tutti.